Oggi più che mai sentiamo parlare di comfort e performance visive e altri aspetti luminotecnici da rispettare negli ambienti di lavoro, anche grazie all'avvento di standard come la Uni N126461. Quali sono i requisiti da rispettare? L'intensità luminosa, il grado di abbagliamento e la resa cromatica, ovvero l'indice CRI. Tutte le soluzioni Coreline offrono questo standard, in regola con questi requisiti. Da settembre 2022, in casa SIGRIFY, sarà disponibile un nuovo pannello Coreline Panel generazione 5. Scopriamolo insieme. Il nostro nuovo pannello Coreline di quinta generazione è disponibile in versione CRI90, con un flusso luminoso fino a 4300 lumen. Queste caratteristiche permettono di creare un ambiente lavorativo ben illuminato e performante. Per quale motivo è necessario avere una buona illuminazione negli ambienti di lavoro? Una buona illuminazione riduce l'affaticamento degli occhi e aumenta la visibilità, incrementando anche la concentrazione. In un ambiente ben illuminato, le performance lavorative saranno migliori. Il nuovo pannello supporta configurazioni multi-lumen. Questo ci permette di avere tre flussi luminosi in un'unica soluzione. Inoltre è un pannello Interact Ready, che permette l'integrazione con il sistema di illuminazione connessa di Interact. In questo modo sarà possibile gestire l'illuminazione degli ambienti in modo smart, garantendo l'efficientamento energetico e riducendo gli sprechi. Per progetti che richiedono innovazione e performance elevate, i veri professionisti scelgono Philips Coreline. Scopri la gamma su lighting.philips.it